Giuseppe Pilonne che qualche istante fa ai colleghi della carta stampata ha detto si chiude questa sera la mia avventura sulla panchina del Pescara. Noi dicevamo prima, mister, il commento della stagione, bicchiere non mezzo pieno, di più perché la squadra è andata al di là delle più rose aspettative, però è mancata la ciliegina della torta della finale. Sì, è vero, nel senso che è una grandissima delusione perché la squadra meritava perlomeno di giocarsi la finale. Purtroppo non ci siamo riusciti, per colpa mia, non lo so, per tante situazioni mi prendo le responsabilità di quello che è successo. È un vero peccato perché la delusione è talmente enorme in questo momento che non faccio fatica anche a parlare sinceramente. Lei qualche giorno fa aveva più volte detto, anche rivelato, che in caso di promozione in Serie A ci sarebbe stato il rinnovo automatico del contratto, così non sarà. Lei lascia, lascia con qualche rammarico, comunque soddisfatto di aver portato il Pescara alla semifinale dei play-off? Beh, il rammarico sicuramente c'è perché è una cosa che sognavo sinceramente, di andare in finale e cercare di giocarmela lì. Però dobbiamo anche dire che abbiamo fatto un'annata molto positiva, abbiamo raggiunto la salvezza a tre mesi d'anticipo, siamo arrivati a un passo dalla finale, abbiamo valorizzato i giovani. Devo dire che le cose di buone ce ne sono state fatte, purtroppo questa sera è mancata proprio la ciliegina sulla torta, non c'è niente da fare. Questo mi dà un grandissimo rammarico, mi dispiace. Lascio però con molto affetto la tifoseria, i miei giocatori che mi hanno sempre sostenuto, che sono sempre stati vicini, che hanno lavorato con grande dedizione. E ringrazio Giorgio Repetto che mi ha portato qui e che mi è sempre stato vicino nei momenti anche di difficoltà, che mi ha sempre rassicurato e mi ha lasciato tranquillo. Ringrazio che voi giornalisti perché siamo sempre stati parte, integrante di questo percorso che abbiamo fatto assieme in questo anno e tre mesi. È stato bello, purtroppo è finito ed è giusto che la società ricominci con un nuovo donatore, con nuovi stimoli e sono sicuro che il prossimo anno faranno grandi cose. Negli ultimi mesi lei non ha mai polemizzato con le parole del Presidente, non lo ha fatto mai e ha detto io rispetto le opinioni di tutti. Sì, e continuo a rispettarle, nel senso rispetto le opinioni di tutti anche se alle volte vengo criticato. Devo rispettarle perché fa parte del mio lavoro. Mi dispiace molto anche per lui perché ci teneva molto a questa finale, però purtroppo io ho messo tutto me stesso in questo anno e tre mesi, ma non sono riuscito ad arrivare a questa benedetta finale. È una grande delusione anche per me. Prima di farle una sola domanda su questa partita, le chiedo, non ci sarebbero stati, al di là del mancato rinnovo del contratto, con lo spiragli per ricominciare il prossimo anno sulla panchina del Pescara. La parte sua sì, dall'altra parte probabilmente no. No, lo so se dall'altra parte o meno no. Io avevo preso questa decisione, l'avevo anche dichiarato, solo se vinco il campionato potrà continuare il mio percorso qui a Pescara. Non l'abbiamo vinto, è giusto che io vada a casa. La partita di questa sera, mister Pescara, che non è riuscito a ripetere la gara del Bentegodi, secondo lei perché? E' difficile anche spiegarsi questa cosa qui perché fuori casa abbiamo fatto una buonissima partita. In casa al primo tempo abbiamo avuto più difficoltà, nel secondo tempo invece abbiamo fatto molto meglio, abbiamo creato più presupposti per passare in vantaggio, poi in un episodio ci ha condannato. Quell'episodio è arrivato subito dopo l'ingresso in campo di Pazzini nel Verona e l'ingresso in campo di Campagnaro nel Pescara. Sì, abbiamo avuto l'azione al gol subito mettendoci in quel sistema lì, poi come spesso capita nel calcio, il gol è sbagliato, abbiamo preso il gol che si poteva evitare.